La settimana in commissione Finanziaria e bilancio regionale Comitato Emergenza Cultura Sette giorni in consiglio In settimana le commissioni hanno iniziato l'esame dei disegni di legge su Finanziaria e bilancio. La prima commissione si è occupata del piano per nuovi cimiteri e crematori, mentre l'urbanistica di autorecupero immobiliare. Consultazioni sull'uso terapeutico della cannabis e il futuro dell'ospedale Gradenigo di Torino in sanità. Audizioni congiunte in terza e sesta sulla Fondazione Centro del Cavallo di Venaria e consultazioni in quinta sulla manutenzione del territorio. In primo piano Il vicepresidente della giunta regionale ha illustrato in prima commissione i disegni di legge su Finanziaria e bilancio regionale. In settimana è iniziato l'esame dei provvedimenti nelle commissioni di merito e dentro il 27 marzo si concluderanno le consultazioni online. Tra le priorità il pagamento di tutti i debiti, soprattutto di quelli riferiti al periodo 2011-2013. I presidenti del Consiglio regionale e della Commissione Cultura hanno ricevuto a Palazzo Lascaris i rappresentanti del Comitato Emergenza Cultura. Nell'incontro sono stati rappresentati i rischi in termini di occupazione di ulteriori riduzioni al comparto. I vertici del Consiglio si sono impegnati a trasmettere le richieste alla conferenza dei capigruppo per calendarizzare un eventuale Consiglio regionale aperto sul tema. Nell'incontro sono stati rappresentanti del Comitato Emergenza Cultura.